Ciao hai trovato qualche donna? Ma che donna, ma che donna, qua si muove di seghe e basta amico mio perché qui donne, cosa vuoi? Questo è un mortuorio, dopo il Covid è ancora peggio, io non so dove si va a finire, capito? Coraggio dai, coraggio, tu almeno sei giovane, ma ciao.